Il prezzo dell'olio extravergine d'oliva sale del 54% rispetto allo scorso anno e l'effetto del crollo del 40% della produzione registrato nella campagna olearia 2016-2017 a far scattare l'allarme e la Coldiretti Puglia che mette l'accento anche su un'altra faccia negativa del calo della produzione. La penurea di olio pugliese, secondo Coldiretti, fa crescere anche i rischi di frode ed inganni in una situazione in cui c'è più olio spagnolo che italiano nelle bottiglie riempite a livello nazionale che in due casi su tre contengono prodotto straniero proveniente per oltre il 60% dalla Spagna, il 25% dalla Grecia e il 10% dalla Tunisia. Sotto accusa, fa sapere Coldiretti, è la mancanza di trasparenza nonostante sia obbligatorio indicarla per legge in etichetta dal 1 luglio 2009. Sulle bottiglie di extravergine ottenute da olive straniere in vendita nei supermercati è quasi impossibile nella stragrande maggioranza dei casi leggere le scritte miscele di oli, di oliva, comunitari o non comunitari. La scritta è riportata in caratteri molto piccoli, posti dietro la bottiglia in molti casi in una posizione sull'etichetta che la rende difficilmente visibile. Inoltre, spesso, bottiglie con extravergine ottenuto da olive straniere sono vendute ai commarchi italiani e riportano con grande evidenza immagini, frasi o nomi che richiamano all'italianità fortemente ingannevoli. Una battaglia, quella che ieri la Coldiretti ha portato nell'aula del Consiglio regionale, condivisa dalle diverse forze politiche, per questo ha donato una bottiglia di olio extravergine d'oliva al Presidente della Regione Emiliano, al Presidente del Consiglio regionale Luizzo, ad assessori e consiglieri, per far assaggiare il levo novello e chiedere un impegno condiviso per promuovere il consumo di olio pugliese attraverso campagne di comunicazione ad hoc e contro frodi e sofisticazioni.